Ok, stiamo a girare a questa mente, però di nuovo la mia parte, e adesso, vai, allora, io non lo parlo, se non lo spiego, se non lo spiego, se non lo spiego, Ivan sto per commettere un omicidio eh! Non c'è fanno calciare l'ascia dietro al conno qui è completamente... se volete potremmo fare il primo schifo eh? Sopra Sopra Un pochino più difficile perchè mi trovate...